Ancora oggi il caso di Liliana Resinovich continua a essere un enigma. Prima di immergerci nelle ultime novità del giorno, vogliamo ringraziarvi di cuore. Un mi piace e la vostra iscrizione al nostro canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Durante un'intervista a, Mattino 5, Gabriella, un'amica stretta di Liliana, ha gettato nuova luce sulla sua misteriosa scomparsa. Gabriella ha raccontato di essere stata appena a un minuto e cinquanta secondi di distanza da Liliana il giorno della sua sparizione. Era dietro di lei mentre Liliana gettava i rifiuti, per poi svanire nel nulla. Gabriella ha ripercorso mentalmente il tragitto di Liliana, dalla fruttivendola al negozio Wind, riflettendo sul presunto destino della sua amica. Tuttavia, il percorso esatto di Liliana rimane avvolto nel mistero, poiché né le telecamere nei testimoni hanno fornito indizi significativi. La testimonianza dettagliata di Gabriella sottolinea il fatto che la scomparsa di Liliana sia avvenuta in un attimo, lasciando Gabriella riflettere su quanto fosse vicina a poter cambiare il destino dell'amica. Se solo fosse stata un po' più vicina. Le parole piene di emozione di Gabriella chiudono il racconto, esprimendo l'angoscia provata nell'affrontare la misteriosa scomparsa dell'amica. Un sentimento che risuona nella comunità, ancora in cerca di risposte. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.